Siamo arrivati a un grande paradigma della filosofia, Parmenide, il padre dell'ontologia, venerando e terribile, così definito da Platone, che lo rielaborerà, mentre Aristotele rielaborerà il principio di identità e di non contraddizione, che sono sempre di origine parmenidea. Allora, arriviamo subito a qualche notizia biografica. Chi era Parmenide? Probabilmente contemporaneo di Ereclito, che era all'oscuro invece, vissuto fra la fine del VI secolo e la prima metà del V secolo a.C. Parmenide nacquero però ad Elea, attuale velia, siamo in provincia di Salerno, parco del Cilento, patrimonio UNESCO, oppure un tributo dell'informatica alla filosofia. Orivetti volle il primo super computer commerciale, chiamarlo Elea 9003, il primo computer internamente costituito a transistor, quando l'informatica sapeva, no? Ancora sa stare al suo posto e sapeva chi erano i suoi riferimenti. Di famiglia aristocratica o Moeraclito, probabilmente svolse in carichi pubblici, abbiamo notizie di aver contribuito alla legislazione scritta, questa è importante, della città. Secondo la tradizione, parte della tradizione si sarebbe formato in ambiente pitagorico. Secondo altri fu allievo di Senofane e di Colofone, anche se questa cosa non è attendibile, comunque nel suo pensiero ci sono echi sia di Pitagora che di Senofane. Sicuramente il tributo ai modelli ionici è forte, Parmenide aveva interessi ovviamente scientifici di quel tipo, ribadì la tesi già di Talete sulla luminosità riflessa della Luna e aver scoperto in Venere l'identità della stella della sera, vespero e del mattino, lucifero, e soprattutto a sostenere come Anassimandro, per i presocratici, per questi ionici, vi rimandiamo ai nostri video precedenti, come Anassimandro la centralità della Terra oltre alla sua perfezione in quanto sfera. Abbiamo delle fonti neoplatoniche, V secolo d.C. abbiamo Proclo, il commentatore Simplicio, lo scettico sesto empirico del II secolo d.C. e altri che ci hanno conservato parte del poema Parmenideo Perifusis sulla natura. Di Parmenide abbiamo 150 versi, poema sulla natura, in versi in forma esametrica, l'esametro è uno dei versi di sei piedi, il verso eroico per eccellenza, lo abbiamo nel modello emerico, nel modello esiodeo, eccetera. E in questo poema, in questo poema sulla natura Parmenideo, c'è un forte intreccio di narrazione mitica e d'esame razionale della realtà, che sono completamente iscindibili. Parmenide qua ci porta in questo viaggio, nel poema sulla natura, vedremo poi importantissimo il proemio, ma leggendo capiamo che è un estremo tentativo di formulare, all'interno di un contesto comunicativo tradizionale, idee e forme di razionalità profondamente, quelle sì, veramente innovative. ma veniamo a che cosa, qual è la domanda fondamentale a cui vuole rispondere Parmenide. Parmenide vuole rispondere a una domanda, che è la domanda della filosofia, e cioè che cosa esiste, che cosa c'è, che cosa è l'essere, e risponde netto, l'essere è ciò che esiste. Ma andiamo a vedere, l'essere è ciò che esiste, ovvero sia qualsiasi cosa di cui si possa dire in qualche maniera che c'è. Tutto quello che è nel mondo, che vediamo, tocchiamo, sentiamo, insomma percepiamo, compresi noi stessi, c'è, ovvero è un ente. Tutto ciò che è nel mondo, compreso noi stessi, siamo, è un insieme di enti. L'essere c'è, l'essere esiste, l'essere è pensabile, dunque esiste. Tutte le cose che sono così a colpo d'occhio non si presentano affatto identiche, bensì diverse. C'è un gatto, c'è un materasso, c'è una lattina di Coca-Cola, c'è Franco. Però se riesco ad accomunarle tutte, definendole appunto cose che ci sono, cose che esistono, vuol dire che riesco a cogliere una qualche loro proprietà che le accomuna, che le equipara. E questo è quello che cerchiamo, diciamo, di tutte queste cose che ci sono, che esistono. Ma se parlo di una cosa, o se solo anche riesco a pensarla, Questa cosa deve quantomeno esistere, cioè essere. E proprio l'essere è ciò che esiste, l'ente è ciò che è. Scusate se ripetiamo in maniera ipnotica questa cosa, ma serve appunto per sprofondare questo pensiero, serve per sprofondare nel pensiero appunto parmenideo. L'essere c'è, il non essere non c'è. Il non essere non è pensabile, non si può pensare il nulla, il nulla non esiste. Per i greci il nulla non è pensabile, non esiste. Pensare a nulla, per i greci, significa non pensare. Qui, come dire, Parmenide, di fronte allo zen, molto probabilmente rabbrividerebbe. Quindi siamo a questa considerazione, all'analisi delle cose che sono. E ciò che non c'è, il non essere, il non essere, niente, il non essere non esiste. Vedremo che questo però, come dire, avrà nel campo della filosofia dei riscontri assolutamente non indolori. Parmenide fa quindi discendere da queste considerazioni, a prima vista banali, perché sembra banali tutto questo, una serie di conseguenze però logiche fondamentali che vanno a formare, appunto, gli attributi dell'essere. L'essere è ingenerato, non può essere generato, perché se ci fosse la generazione significherebbe che passerebbe da uno stadio dove prima non c'era, quindi di non essere, ma non essere non c'è, dal non essere all'essere, e quindi non è possibile, perché il non essere non esistendo non può generare nulla. Il secondo attributo è che l'essere non può morire, perché sennò dall'essere passerebbe al nulla, cioè al non essere, alla morte. Ma per il pensiero greco il nulla non esiste, come abbiamo già detto. Il terzo attributo è l'essere è, come dire, eterno, è al di fuori del tempo, è insenescente, perché se cominciasse ritorneremo al solito errore logico di pensare il non essere. Prima non c'è, poi c'è, poi di nuovo non c'è. No, questo non è pensabile per Parmenide. La quarta, il quarto attributo è che l'essere è immobile, è fermo, perché il movimento non esiste se si muovesse, si ritornerebbe di nuovo al movimento dal non essere all'essere, dall'essere al non essere, che non è pensabile. Il non essere non si trova in nessun luogo, dunque l'essere non può muoversi. Se si muovesse, lascerebbe dietro di sé il non essere, che però non esiste. Poi l'essere deve essere uno, deve essere omogeneo, deve essere indivisibile, perché se si dividesse, ci sarebbero delle parti di essere, delle parti che non sono essere. Se non fosse omogeneo, deve essere un tutto compatto. L'essere deve essere uno, perché se fosse due saremmo già alla diade, saremmo già alla lotta essere e non essere. Infine, sesto attributo, l'essere è finito. Sappiamo per il pensiero greco che l'infinito è di difficile pensiero e infinito l'accento è sull'in, su qualcosa di indeterminato, su qualcosa di non completo. I greci masticano male con le cose non finite, l'essere è tutto ciò che esiste, l'unica cosa che potrebbe mancargli è il non essere, visto che non esiste ciò che gli manca, deve essere finito, cioè finito come sinonimo, prendetelo come sinonimo di completezza e quindi di perfezione nel pensiero greco. Allora riassumiamo che cos'è, alla domanda che cos'è l'essere. Un professore, un'interrogazione di filosofia, siete in terza liceo e il professore o la professoressa vi chiede che cos'è l'essere. E voi potreste riassumere così, l'essere è immobile e compatto, non c'è vuoto, non c'è divenire, non c'è movimento in esso e se vuoi rappresentarlo, se lo vuoi disegnare, pensa a una sfera rotonda, sferica, rotonda, come rotonda è la verità. La verità è perfetta, la verità ultima è perfetta, quindi è rotonda, è sferica e la verità ultima è che nulla muta. Come avete visto da queste premesse, l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere, da queste premesse, l'essere è e non è possibile che non sia, il non essere non è e non è possibile che sia, arriviamo a delle conclusioni, da queste premesse arriviamo a delle conclusioni decisamente sorprendenti che faranno la storia della filosofia, almeno fino al 1600, cioè ad affermare il principio di identità e il principio di non contraddizione che tanto peso avranno appunto nel nostro pensiero di occidentali. Due principi fondamentali, il principio di identità, ogni cosa è se stessa, io sono Simone e non posso essere franco, non posso essere altro, io sono Simone e sono identico, ogni cosa è se stessa. Il principio invece, questo è il primo principio fondamentale, il secondo principio fondamentale è quello di non contraddizione, ogni cosa non può essere se stessa e al contempo il suo contrario. Io sono Simone e non posso essere, come dire, il mio contrario, non posso essere un'altra cosa rispetto a quello che sono io. Il mio gatto non può essere il cane, o è il gatto, o è il cane, il terzium non datur, o se parliamo del mio gatto, il mio gatto è se stesso e non può essere il cane. Questo perché siamo sul terreno della logica, del logos, del nus razionale, del pensiero razionale che cerca di farsi spazio fra i sensi che mandano tremila informazioni e ci ingannano e se fossimo invece nel regno del sacro, del sacero, di ciò che è circoscritto, di ciò che non è penetrabile agli uomini, allora ci sarebbe serenamente anche il principio di contraddizione, ma quello è serenamente attribuibile alla divinità. Solo Zeus può essere toro, può essere anche cigno, può essere, come dire, le divinità olimpiche possono essere e non essere e essere altro al contempo, ma nel regno della scienza, nel regno scientifico, nel regno non mitico, vigono il principio di identità e il principio di non contraddizione. Arriviamo piano piano al poema sulla natura. Quali sono le vie della conoscenza secondo il perifusis, secondo questi 150 frammenti parvenidei, secondo questa, come dire, poesia filosofica, altra questione grandissima, quanto la poesia può essere filosofica e quanto la filosofia può essere poetica, ma non ci deve interessare adesso. Fissiamo questo, i nostri sensi ci ingannano, sì, ma servono, servono, ma ci ingannano, li dobbiamo utilizzare perché non ne possiamo fare a meno, però ci ingannano e quindi le vie della conoscenza in realtà ci dice Parvenide sono due e ce lo dice nel proemio del suo poema intitolato Sulla natura. In questo proemio, in questo frammento, Parvenide narra di essere stato portato a un viaggio iniziatico che per certi versi ricorda un pochino anche il viaggio di Enea narra di essere stato portato di fronte a una dea, a una divinità. Alcuni studiosi identificheranno questa dea, questa divinità con Persephone, signora dell'Ade, l'Ade per i greci è il luogo delle rivelazioni, no? Ad Inferos, dove si va dove si va a conoscere la verità. Pensate all'undicesimo libro dell'Odissea, Ulisse incontra Achille e Achille rivela questa grandissima verità che non c'è nessuna gioia nella morte che preferirebbe essere servo piuttosto che essere re dei morti di governare su queste ombre, no? Siamo, abbiamo a che fare con le ombre nel, in questa discesa di Ulisse all'Inferno. Comunque, Parmenide narra di essere stato portato di fronte a questa dea la quale idea gli ha rivelato rivelazione, quindi qualcosa che gli esseri umani possono percorrere due sentieri. Il primo sentiero è quello dell'opinione, della doxa che porta a credere che la verità sia il mutamento, sia insita nell'esistenza degli oggetti che sono presenti ai nostri sensi, che secondo la via della doxa, dell'opinione, ciò che appare è vero, ma in realtà non è così, lo sappiamo benissimo, siamo nel regno della probabilità. Invece, l'altra via che è quella vera, quella giusta da percorrere, quella percorrendo la quale non ci perdiamo, è la via del logos, della ragione, che porta a comprendere la vera natura dell'essere, ovvero la verità come disvelamento alesseia, alfa privativo alesseia, disvelare, arrivare a togliere il velo del tutto libera dalla presenza appunto del non essere. Quindi due, quali sono le vie della conoscenza? Le vie della conoscenza sono la via dell'opinione che porta all'errore e sono la via della ragione che invece porta alla verità. Secondo quale quella, se percorri quella dell'opinione ti perdi, se percorri quella della ragione ti ritrovi. Dal momento che in questo frammento, in questo premio, Parmenide parla anche di due principi all'origine delle cose, parla del giorno e della notte, ma non come due cose contrapposte o che uno cambia nell'altro la maniera di Eraclito, ma il giorno e la notte per Parmenide sono due facce della stessa realtà, sono due aspetti della stessa cosa che è omogenea, compatta, realtà che è appunto questo essere immobile, compatto, ingenerato, imperituro, insenesciente e via citando. Nonostante questo l'idea di due forme della conoscenza, una probabile basata sui sensi e l'altra infallibile che può essere percorsa solo attraverso la ragione e questa riflessione sarà uno dei punti centrali appunto della storia della filosofia occidentale proprio a partire da Parmenide. Dopo Parmenide la filosofia ecco perché è così importantissima è terribile e venerabile ma perché è importantissimo è gigantesco il pensiero di Parmenide perché la filosofia dopo Parmenide non sarà più la stessa quindi Parmenide qui concludiamo ci lascia una grandissima lezione che se qualcosa può essere pensato allora esiste ci lascia la lezione che la sola ragione è sufficiente per comprendere la vera natura dell'essere Parmenide è il padre di quella branca di filosofia chiamata appunto ontologia logos onto taonta le cose che sono una logica come dire una logica un discorso razionale sulle cose che ci sono che esiste che esistono che sono pensabili e poi anche il padre del pensiero deduttivo che è quel pensiero che appunto ci accompagnerà e accompagnerà la filosofia occidentale fino al 1600 ma anche oltre un esempio di deduzione nessun martire ha paura di morire alcuni cristiani hanno paura di morire dunque alcuni cristiani non sono martiri questo è un esempio di un ragionamento deduttivo la premessa è vera per definizione per questo la conclusione sarà universale e necessaria universale valida per tutti necessaria non può essere altrimenti invece poi prenderà con la rivoluzione scientifica piede l'induzione che si occupa dei ragionamenti che partendo dall'analisi di casi particolari giungono ad affermazioni di carattere generale qui Massarenti e Di Marco ci fanno questo esempio di induzione a Forte dei Marmi ci sono dei corvi e sono tutti neri in Versilia ci sono dei corvi e sono tutti neri anche in Toscana ci sono dei corvi e sono tutti neri la conseguenza è che tutti i corvi sono neri siamo certi però che tale conseguenza sia universale e necessaria la risposta ovviamente è negativa quindi concludendo grazie a questo primordiale approccio parmenideo i greci fecero enormi progressi nella matematica e nella geometria e su questa base su base parmenidea è stata edificata uno dei più maestosi monumenti lasciati dal popolo greco che sono gli elementi di Euclide che vedremo più avanti naturalmente parmenide invece di applicare questo pensiero questa maniera di pensare di applicarle a rette circonferenze e angoli la utilizza da buon filosofo per l'intera realtà per l'intera realtà per l'intera per l'intera